Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario anche oggi è dedicata all'avvertenza Eni dopo l'incontro che si è svolto ieri al Ministero del Lavoro. Decisa la cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto di Gela fino al prossimo aprile. Nulla almeno per il momento per i 78 operai che erano stati licenziati dalle imprese appaltatrici per mancanza di commesse di lavoro. Sarà la regione siciliana ad impegnarsi al fine di garantire lo stesso trattamento. L'amministrazione comunale gelese ha accolto di buon grado il sì del Ministero del Lavoro a concedere gli ammortizzatori sociali agli operai usciti dal circuito del lavoro. Ma ciò che conta maggiormente adesso è rispettare il cronoprogramma indicato per le bonifiche del territorio, la realizzazione della Green Raffinery, il progetto di un'hub strategica del Mediterraneo e altre direttrici per lo sviluppo di Gela. Insoddisfatti invece i lavoratori continuano infatti presidi sulle strade di accesso alla città e dinanzi alla stazione di rilancio del gas libico che arriva in Sicilia attraverso il metanodotto sottomarino Green Stream. Cassa d'integrazione per i lavoratori dell'indotto di Gela fino al prossimo aprile. Nulla almeno al momento per i 78 operai che erano stati licenziati dalle imprese appaltatrici per mancanza di commesse di lavoro. Sarà la regione siciliana ad impegnarsi al fine di garantire lo stesso trattamento. E' quanto emerso ieri al termine dell'incontro che si è svolto al Ministero del Lavoro tra il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, il sindaco di Gela, Domenico Mersinese, ed i sottosegretari, Simona Vicari, sviluppo economico e Teresa Bellanova, lavoro. Gli operai che protestano da una decina di giorni non ci stanno. Quanto ho deciso ieri sono stati definiti pannicelli caldi e la protesta continua. I presidi rimangono sulle strade di accesso alla città e dinanzi alla stazione di rilancio del gas libico che arriva in Sicilia attraverso il metanodotto sottomarino Green Stream. L'amministrazione comunale ha accolto di buon grado il sì del Ministero del Lavoro a concedere gli ammortizzatori sociali agli operai usciti dal circuito economico, ma ciò che conta maggiormente ora è rispettare il cronoprogramma indicato per le bonifiche del territorio. La realizzazione della Green Refinery, il progetto di un'hub strategica del Mediterraneo ed altre direttrici per lo sviluppo di Gela. C'è stato il Ministero del Territorio e Ambiente, il quale ha assicurato che entro il giorno 18 febbraio verranno rilasciate le autorizzazioni per poter consentire di avviare i cantiere. Parliamo delle crisi, delle bonifiche sulla Piana di Gela, parliamo della bonifica del pontile, della bonifica della Vigia Polania, una serie di attività che consentiranno a molte persone di scendere a lavorare. Inoltre dovrebbe essere rilasciata la variante Allaia per consentire di rischiare i lavori anche della Green Refinery. In modo comunque responsabile abbiamo chiesto di poter analizzare subito dopo questo incontro del 2018 un tavolo diverito dal protocollo d'intesa in modo tale di avere immediatamente prontezza dell'avvio dei cantieri da parte di Eni. I sostegni economici concessi avranno termine ad aprile, mese entro cui dovranno partire le autorizzazioni del governo ad Eni e dunque i cantieri di reconversione industriale bonifiche incluse. Via libera anche alla deroga del 5% dei fondi nazionali a favore della regione siciliana per coprire eventuali ritardi con nuovi ammortizzatori sociali e tutelare chi ha perso la cassa integrazione negli ultimi mesi del 2015. A metà febbraio la conferenza dei servizi decisiva per il rilascio di tutti i progetti certificati positivamente e pochi giorni dopo nuovi incontri tra le parti per verificare gli adempimenti di Eni sui progetti valutati. E su quanto deciso ieri c'è insoddisfazione dei consiglieri comunali presenti anche oggi a Roma? Vediamo. Non siamo venuti qui per tre mesi di cassa integrazione, siamo sempre più convinti che per Gela ci voglia una legge speciale e solo il governo Renzi può assicurarla. Parole e musica dei consiglieri comunali di Gela che ieri in segno di protesta si sono incatenati dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. C'erano anche alcuni operai ed alcuni di loro ed il consigliere comunale di Reset 4.0 Luigi Di Dio hanno protestato in mutande. Il consiglio comunale gelese oggi a Montecitorio avrà un incontro con i vari deputati nazionali tra cui Burtone e Cardinale. Abbiamo chiesto di presentare al governo nazionale una interrogazione. Diciamo che il consiglio comunale sta cercando conforto da parte di tutti. Lo che ritengo questa è la versione di Gela è una versione che va al di là dei colori politici e mi risulta che anche il gruppo del Movimento 5 Stelle ha incontrato la rappresentante parlamentare del loro riferimento, quindi siamo qui vigili perché le notizie che arrivano non sono comportanti. Ci siamo infestati qua, non certo per tre mesi di cassa integrazione. La vertenza va avanti, ora quando ritorneremo decideremo insieme quale altre iniziative dobbiamo portare avanti il sostegno dei lavoratori, che sicuramente diamo ancora la nostra solidarietà perché loro chiedono solo una cosa, il diritto al lavoro. Il resto sono tutte chiacchiere, incontri. Diciamo che l'incontro che c'è stato ieri era un incontro, a noi la generazione c'è stato che era un incontro normale, normale di routine, non un incontro che tenesse conto che è la situazione di emergenza che sta vivendo Gela in questo momento. La battaglia è lunga e difficile, è chiaro che in un territorio quando si decide di chiudere una raffineria e attuare un processo di ricompressione industriale ci vuole tempo, però se ognuno di noi fa la propria parte e il territorio rimane unito, assieme ai sindacati, alle forze sociali ed economiche, tutta la classe politica, credo che alla fine i risultati arriveranno. Noi non abbandoneremo Gela e non permetteremo a nessuno di chiudere la città, dobbiamo dare a queste città una speranza di sviluppo. E per le sigle confederali, ieri la montagna ha partorito il topolino, chiesta pari dignità rispetto ad altre vertenze industriali, se il governo ha approvato un decreto per l'Ilva di Taranto. I sindacati si chiedono perché mai non sia possibile un decreto per l'Eni di Gela. Sentiamo. La montagna ha partorito il topolino, lo dice Ignazio Giudice, il segretario provinciale della CGL. Vista l'irrilevante entità delle misure annunciate ieri, dice Giudice, ci chiediamo se le parti hanno minimamente guardato i documenti rivendicativi approvati dal Consiglio Comunale di Gela e dalle parti sociali riunite lunedì a Roma. A noi, dice Giudice, sembra di no e per questo annunciamo la prosecuzione dei presidi. I commercianti, gli studenti, i lavoratori, i disoccupati e chi più ne è più ne metta non hanno manifestato per ottenere tre mesi di cassine reazione pagati tra due anni, hanno manifestato per l'avvio subito delle bonifiche e del lavoro. Il risultato di ieri è deludente sotto questo aspetto e noi in queste ore come sindacati unitariamente stiamo valutando le azioni di impegno di lotta da mettere in gambo a partire da stasera. Chiediamo, continua Giudice, pari dignità rispetto ad altre vertenze industriali. Se il governo ha approvato un decreto per l'Ilva di Taranto, ci chiediamo perché non sia possibile un decreto per l'Eni di Gela. Questo è evidente e la politica a tutti i livelli, a partire dal governatore Crocetto, dovrebbe chiedersi perché. Forse i governi non sono così pesanti come il governo di altre parti d'Italia e questo è un problema serio che convolge in molto lavoro, convolge la nostra città. e per questo chiediamo equità e giustizia al governo nazionale. Stasera decideremo quanto articolare di più e meglio i presidi e lo decideremo interamente. Di certo i lavoratori non sono contenti di ciò che è stato generato dall'incontro di ieri al Ministero. Cambiamo argomento, parliamo dell'incontro che si è svolto ieri a Palermo sui liberi consorzi e le città metropolitane presenti, i componenti del comitato Gelensis Populus. Vediamo. Liberi consorzi e città metropolitane sono gli argomenti trattati ieri durante l'incontro a Palermo tra l'assessore agli enti locali, Luisa Lantieri, ed i componenti del comitato Gelensis Populus. Sono stati chiesti i carimenti in merito alla vicenda che sembra aver avuto una battuta d'arresto a causa dell'approvazione del bilancio regionale. Per quanto riguarda il percorso di adesione già è tutto pronto. Io ho firmato due decreti da portare in giunta per i nuovi territori. Indubbiamente tutto questo deve essere accompagnato da una legge perché bisogna stabilire a priori i criteri e tutto quello che c'è nell'organizzazione interna perché si passa da un'ex provincia di Caltanissetta ad una città metropolitana o viceversa si poteva andare anche verso un nuovo libero consorzio. Però bisogna stabilire il patrimonio di quella città, bisogna stabilire la lunghezza delle strade. Come si ci deve organizzare? Voi sapete che ci sono le scuole provinciali, ci sono degli uffici, perciò questo secondo me deve essere tutto determinato priormente a norma di legge. L'iter del passaggio dei comuni di Gela, Niscemi e Piazza Marina prevede il ridisegno dei confini geografici dei nuovi liberi consorsi e delle città metropolitane che sarà effettuato attraverso un atto di giunta e portato in aula per la provozione. In parallelo sarà preparato uno studio relativo al passaggio delle competenze in ordine al personale, le scuole, la sanità, le partecipate e quant'altro dalla libero consorzio uscente, cioè quelli di Caltanissetta ed Enna, alla città metropolitana di Catania verso la quale questi tre comuni intendono migrare. E immediatamente dopo l'approvazione del bilancio alla regione, il primo disegno di legge che approderà in assemblea è proprio quello che riscrive la legge sui liberi consorsi e le città metropolitane. Numerosi riunioni, incontri, tavoli tecnici, ma sostanzialmente quando Gela approderà alla città metropolitana di Catania? Ci ha confermato che il tempo tecnico dell'approvazione della finanziaria regionale prenderebbe teoricamente al massimo tutto il mese di febbraio, potrebbe anche risolversi prima e quindi ci ha detto che nella prima settimana di marzo lei si attiverà alla cremente con il presidente dell'assemblea regionale Ardizzone per portarlo immediatamente. Ci ha garantito che il primo disegno che sarà esaminato in assemblea sarà proprio questo. Il deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Peppe Arancio. I cittadini possono stare tranquilli perché tutto ciò che è stato deciso ha delle determinanti, dei tempi e quindi andremo verso l'obiettivo. Disaggi idrici a Gela a seguito della interruzione della fornitura lungo la condotta di adduzione al serbatoio di Spina Santa a causa di un livello alto della torbidità. La distribuzione prevista per oggi nella zona di Spina Santa Alta è stata garantita ma non ci sarà erogazione nella zona Spina Santa Bassa. È quanto ha comunicato Caltacqua. È prevista per domenica prossima al Cineteatro Antituto di Gela la terza edizione del meeting del Mediterraneo promosso dal coordinamento delle opere e l'associazione che riunisce varie realtà legate al movimento giovanile Macchitella. Il tema che sarà affrontato è quello delle nuove frontiere geopolitiche e culturali del mondo contemporaneo. Appuntamento previsto per le 10. Si dibatterà sulla questione migranti. Alle 12.30 sarà celebrata la messa nel pomeriggio, riprenderanno i lavori. Prevista la partecipazione tra gli altri di Vincenzo Barretta, ex manager di Luxottica. Vogliamo che la città di Gela attraverso questo evento, questa particolare giornata di incontro diventi un punto di riferimento per tutto il territorio siciliano. Stiamo lavorando proprio in questo senso, stiamo lavorando per far sì che nell'arco di un anno solare ci sia un momento di incontro trattando tematiche sempre importanti e che interessano l'intera nostra regione. Le scorse edizioni abbiamo parlato di imprenditoria, l'anno scorso della questione Eni. Quest'anno i temi sono più ampi, abbiamo una giornata che è totalmente dedicata a varie tematiche che verranno affrontate da diversi relatori di spicco. Quest'edizione del meeting vuole affrontare il tema delle frontiere e vuole prendere questo tema e sviscerarlo sotto diversi punti di vista. Il titolo è proprio non nuove terre ma nuovi occhi. affronta il tema sotto il punto di vista politico e geopolitico, quindi la questione migrante e culturale, ma anche sotto il punto di vista economico, quindi le nuove frontiere dell'economia e noi un territorio come questo, Gela, che vive la crisi di una grande industria si ritrova a dover avere a che fare con le nuove frontiere dell'economia e lo sviluppo in territorio, ma vuole essere anche un tema culturale, quindi le nuove frontiere nell'approccio artistico e della comprensione artistica che l'uomo ha dalla realtà. Invitiamo tutti i ragazzi, tutti i giovani, tutti gli anziani, i bambini a partecipare a questo momento che vuole essere un momento di incontro tra persone, vuole essere un momento di confronto e di stimolo culturale per la città. Donazione di organi, atto d'amore e fatto culturale. Il titolo del convegno che si terrà nell'auditorium del liceo classico di Gela lunedì 1 febbraio prossimo alle 16, organizzato dal reparto di rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele. Previsti gli interventi del dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri, di Lucia Antona, Salvatore Benfante Picogna dell'Associazione Maestri Cattolici Italiani e di Giacomo Giurato, neoreferente interprovinciale di Aido, associazione italiana donatori di organi e tessuti e presidente di ADMO, l'associazione donatori di midollo osseo e promotore della nascita del polo di reclutamento donatori di midollo osseo a Gela. Hanno assicurato la loro presenza anche Luciano Fiorella, direttore sanitario dell'ospedale di Gela, il direttore generale dell'ASP2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono e il sindaco Domenico Messinese. Prevista la presenza di Reginald Green, il papà del piccolo Nicolas, 7 anni, vittima nel 1994 di un assassino sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, mentre era diretto in Sicilia con i genitori. Gli organi di Nicolas Green vivono in 7 persone. La Croce Azzurra Onlus di Gela ricerca personale osa, infermieri e addetti di segreterie personale da dedicare al servizio di ausilieriato. Per informazioni bisogna contattare il numero 3-3-4-7-4-2-3-4-1-7. Dalle 9.30 alle 11 c'è anche un indirizzo di posta elettronica croce.azzurra-gelachiocciolalibero.it. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il Soroptimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le Dune Gelesi rivolto agli alunni delle scuole superiori, con l'intento di valorizzare le bellezze del nostro territorio. Le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo. Saranno premiati i primi tre classificati. Il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela. Fino al 31 gennaio prossimo, presso il Palazzo Ducale, è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo, realizzata da Franco Pardo, in collaborazione con Croci a Tardi. Espongono gli artisti Gina Pardo e Pino Polara. La mostra, patrocinata dal Comune di Gela, potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Proseguono gli appuntamenti col Grande Jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Venerdì il 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Numero di telefono 093 3911 892 oppure 345 58 80 580. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone della 82esima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica alle 19 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli è previsto il recital del pianista Davide Sciacca. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Siamo allo sport, parliamo di calcio e del momento sì del Gela in eccellenza. Dopo aver agguantato infatti la vetta della classifica i biancazzurri vogliono continuare a sognare. Ieri sera attraverso un corteo ho ricordato il tifoso Emanuele Labiso scomparso a seguito di un incidente aereo. Ieri avrebbe compiuto 27 anni. Sentiamo. Primo in classifica in condominio con la San Cataltese il Gela non vuole smettere di stupire e anzi bisogna continuare sulla strada intrapresa. L'obiettivo è la Serie D. Lo merita una città soffocata da una grave crisi occupazionale che proprio nel calcio ripone le speranze. È consolidato il legame di sangue che esiste tra la formazione biancazzurra e i gelesi. E lo si è ampiamente dimostrato domenica scorsa proprio in occasione della sfida con i San Cataltesi. Uno stadio strapieno. Come ai vecchi tempi della Lega Pro, la dirigenza preseduta da Angelo Tuccio ha messo a disposizione del tecnico Totò Burculeri una squadra che non è seconda a nessuno. Anzi, come ampiamente dimostrato e prendendo in prestito le parole di chi mastica calcio da sempre, è la squadra più forte del girone A del torneo di eccellenza. Ci sono stati dei momenti difficili, così come prevedibile, in un campionato assai augurante e duro, ma la truppa biancazzurra si è subito ripresa. Ora è in testa e ci vuole rimanere fino al termine della stagione regolare. Prossimo impegno domenica sul campo del Camarat nell'Agrigentino. Una gara che presenta numerose insidie. Ecco perché i giocatori stanno preparando al meglio la sfida. Il Camarat in classifica si trova in piena zona play-out con 17 punti ed è reduce dalla pesantissima sconfitta 3-0 subita a Mazzara. Anche a Camarata saranno presenti in massa i tifosi della curva Angelo Boscaglia. Si stanno organizzando dei pullman. Per le adesioni è possibile rivolgersi presso la cartoleria Pausa Internet di Via Venezia 316 o direttamente ai ragazzi della curva durante gli allenamenti pomeridiani del Gela. La quota di partecipazione è di 10 euro per il pullman mentre il biglietto stadio sarà acquistato direttamente al botteghino. Ieri sera intanto il gruppo vecchio stile 87 è un'occasione del 27esimo compleanno di Emanuele Labbiso. Il giovane tifoso scomparso tragicamente a seguito di un incidente aereo assieme al padre Giuseppe ha promosso un corteo che è partito dall'ingresso della curva Angelo Boscaglia ed ha raggiunto l'esterno dello stadio dove è situato il murales dedicato a Nele Svizzero. In ricordo di Emanuele sono stati deposti mazzi di fiori ed una sciarpa bianca azzurra. Ritornando alla partita di domenica scorsa con la San Cataldese anche il cliccatissimo portale web della Gazzetta dello Sport ha deciso di postare il video del gol di Bonaffini dando la giusta importanza. Il titolo è emblematico. Bonaffini, gol champions? No, eccellenza. Io pedalo perché è la prima pedalata dell'anno organizzata dalla FIAB dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Gela Nanocicli. L'appuntamento è per domenica 31 gennaio prossimo sulla pista ciclabile di Macchitella. L'iniziativa fa parte dell'ambito delle attività di promozione socio-ambientali della FIAB che ha la finalità principale della diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente sia urbano che extraurbano. La FIAB di Gela il cui presidente è Valentina Ferrigno come le numerose altre sparse in tutta Italia promuove l'uso della bicicletta anche come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare traffico, salute della persona e la pratica dell'escursionismo in bicicletta o il cicloturismo. All'evento di domenica prossima sono invitati tutti i cittadini e rappresentanti istituzionali anche per fare conoscere lo stato dei luoghi e delle opere attuate in città, mostrando da un lato e passi avanti che l'amministrazione pubblica fatta in favore di una migliore mobilità urbana con la realizzazione della prima pista ciclabile nel quartiere Macchitella, invece dall'altro lo stato di degrado in cui purtroppo versa la diecente parco di Montelungo ricco di specie botaniche. Siamo all'informazione cinematografica, sono due i film in programmazione al Cineteatro antidoto di Macchitella a Gela, alle 17.30 e alle 19.30 Carol e alle 21.30 il Ponte delle Spie. Bene, con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione, vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato, grazie e arrivederci. Grazie per la visione!